Un uomo di Dio, legato alla terra, profondo conoscitore delle necessità basilari delle persone del suo tempo, ma capace anche di trasformare ogni impegno terreno in qualche cosa di più alto, di spirituale. Un santo a tutto tondo, il Beato Giuseppe Nascimbeni, di cui il 20 gennaio si celebra la memoria liturgica. Salito agli altari nel 1988 da San Giovanni Paolo II, Nascimbeni fondò nel 1892, con l'aiuto anche di madre Domenica Mantovani, la congregazione delle piccole suore della Sacra Famiglia, una realtà che ieri come oggi porta avanti l'opera di accoglienza, educazione delle giovani generazioni e solidarietà. Lo ricordiamo perché innanzitutto è stato un grande uomo di Dio, un uomo appassionato dell'uomo e di Dio, ed è riuscito a coniugare queste due cose attraverso soprattutto la sua opera educativa. Lui è stato un parroco, ma anche un maestro, ci teneva tantissimo all'istruzione, all'educazione della gioventù, di quello che lui chiamava il povero popolo, perché riteneva che attraverso l'educazione, l'istruzione e la formazione si potesse davvero creare dei buoni cittadini e dei bravi cristiani. E quindi questo era uno strumento di promozione sociale, ma anche di evangelizzazione. E penso che questo sia qualcosa di molto attuale anche oggi. Lui ha voluto che l'opera educativa fosse al centro dell'istituto, noi abbiamo parecchie scuole, e proprio oggi l'opera educativa è fondamentale per cercare di promuovere lo sviluppo delle nuove generazioni, per dare anche una speranza a questi giovani oggi, sviluppare una capacità critica e promuovere quei valori di umanità che sono insiti in ciascuno. Attraverso di lui è nata la realtà, l'istituto delle piccole suore della Sacra Famiglia, una realtà presente a Verona in due posti chiave della nostra città e della nostra provincia, che sono un po' un faro per quanto riguarda l'educazione nella nostra città e l'educazione di un certo tipo, l'educazione anche cristiana. Lui ha fondato questo istituto su indicazione del suo vescovo, proprio perché vedeva che non riusciva a raggiungere tutte le necessità di quello che lui chiamava il povero popolo. Aveva bisogno di un aiuto e quindi, su ispirazione dello Spirito Santo e attraverso le parole del vescovo ausiliare di Verona dell'epoca, lui fonda questo istituto proprio per raggiungere il maggior numero di persone possibili del povero popolo e proprio in questa funzione che dicevamo, soprattutto di carattere educativo. Noi abbiamo la Casa Madre a Castelletto, dove appunto adesso c'è una scuola da parecchi anni, che quindi è un centro anche culturale molto importante anche per il Lago di Garda. Siamo qui in città a Verona, anche qui da tanti anni, siamo un centro che si occupa di formazione proprio anche per aiutare le ragazze, abbiamo sia maschi che femmine, ma soprattutto abbiamo un bacino di utenza soprattutto femminile per preparare queste ragazze nell'ambito socio-sanitario e anche educativo.